Eccoci, ben ritrovati. Ben ritrovato Matteo Salvini, leader della Lega, ma naturalmente ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Benvenuto, bentornato. Come sta? Grazie, buongiorno. Spero che la voce del raffreddato sotto flui Mucilla arrivi chiara, perché è cinque giorni che mi soffio il naso come tanti altri italiani. Aia, aia. Ma ha respirato l'aria buona di Milano? No, guardi, sono a Roma e poi oggi sono in Sardegna, sono a Cagliari, Oristano, Passari, Nuoro, Olbia. E lì l'aria è pulitissima, anzi, ne approfitto ringraziando Mattino 5, perché a differenza di tutte le altre televisioni mi permette di dire che domenica i sardi votano, i sardi esistono. Ma perché? Le altre televisioni gliel'hanno impedito? No, non me l'hanno impedito, ma nessuno ne parla. Qualcuno sa che un milione e mezzo di sardi votano per rinnovare il Consiglio regionale domenica. Però per molte televisioni, non Canale 5, la Sardegna è come se non esistesse, invece è una terra straordinaria. No, anzi, è una competizione molto interessante, poi ovviamente si fanno sempre dei calcoli sulla politica nazionale che non hanno molto senso. No, è molto sardo per i sardi. Io voglio partire da qua, perché non so se vede il cartello, Fleximan sta arrivando, ha colpito anche ieri quattro autovelox nella zona della Lombardia. Noi ne abbiamo parlato tante volte, quindi sono contento di avere il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture per sapere cosa ne pensa. Il Ministro che sta cercando di risolvere il problema senza la fiamma ossidrica, senza battere cartelli, autovelox, semafori o altro, perché non è la soluzione. Noi stiamo lavorando a un nuovo codice della strada, perché salvare le vite, soprattutto dei più giovani, è fondamentale. Voglio dare una buona notizia, perché ogni tanto le cose vanno anche bene, fortunatamente in Italia, se la politica fa il suo dovere. Nel 2003 i dati della Polizia Stradale danno una riduzione di incidenti, di morti, meno 17%, di feriti e più controlli. 2023, scusi, ho capito. 2023, l'anno scorso, sì. I dati della stradale dicono che se fai più controlli su chi guida, ubriaco, drogato, su chi corre in macchina, hai meno incidenti e meno morti. Quindi noi stiamo facendo un nuovo codice della strada che porta l'educazione stradale a scuola dai ragazzi. Porta più controlli sulle strade e ritira la patente a chi viene beccato o drogato, a chi usa il telefonino. Io ci tengo a lanciare questo appello. La prima causa di incidenti non è l'alcol, non è la velocità, ma è la distrazione al volante. Quindi nel nuovo codice prevediamo anche il ritiro breve della patente fino a 15 giorni per chi viene beccato alla guida al telefonino. C'è il ritiro della patente per chi abbandona degli animali in strada. Quindi abbiamo delle norme sulla sicurezza per aiutare i ciclisti, i guardrail salvavita per i motociclisti. E a suo giudizio mi pare di cogliere che... L'autovelox ovunque no. Cioè sono più efficaci quelle che non gli autovelox? No. Preferisco i controlli, l'educazione, la sanzione dura. L'autovelox, attenzione, vicino a una scuola, a un asilo nido, a un ospedale, a una strada stretta, ci sta. L'autovelox, come sentivo da vostri intervistati su stradoni di due corsie larghi, dove magari cambi il limite di velocità e poi ci piazzi l'autovelox, non è per la sicurezza. È una fregatura per gli automobilisti. E siccome gli automobilisti usano la macchina per andare a lavorare, nel 90% dei casi, non per andare a fare una gita, ecco gli autovelox fai da te, piazzati all'angolo, non per salvare vite, ma per fare cassa, grazie alla direttiva del ministero che guido su cui stiamo lavorando, non potrà essere messo. I suoi oppositori politici dicono, ma come Salvini è durissimo con i ragazzi che bloccano la tangenziale per un motivo nobile, salvare il pianeta, ed è molto più morbido con uno che col flessibile taglia delle dotazioni pubbliche. Mi ha sentito morbido. Tagliare i cartelli con la fiamma ossidrica non è la soluzione del problema, è illegale, è vietato dalla legge. Il problema da ministro, da automobilista, da lavoratore, da cittadino lo risolvo, visto che gli italiani mi hanno dato questa possibilità con il loro voto, cambiando le norme. Quindi, ripeto, se fai educazione, controlli, se sei severo con chi sbaglia al volante, tu riduci i morti e gli incidenti. Però se piazzi autovelox, senza motivi, dalla sera alla mattina, non omologati per fare cassa, quella non è sicurezza. Poi mi permetta di dire che il pianeta non lo salvi fermando la tangenziale a Milano, il grande raccordo a Roma, rompendo le scatole a migliaia di lavoratori. Questo sì, glielo permetto. Senta, a proposito di multe, è venuta fuori questa statistica molto interessante che vede un po' la raccolta delle multe, fa un paragone tra il nord Italia e il sud. Il sud pesa sul totale delle multe raccolte in Italia, mi sembra un po' meno del 15%, che o sono molto, cioè parcheggiano sempre bene la macchina, diligenti e molto più disciplinati al sud. Non lo so, io sto lavorando da ministro per unire il paese del nome della sicurezza. Perché c'è questa sproporzione, secondo lei? Non ne ho idea, dovremmo chiederlo alle polizie locali, alla polizia stradale. Magari c'è un organico inferiore in alcune realtà italiane della polizia locale, anzi, noi stiamo lavorando per dare alla polizia locale la stessa dignità delle altre forze dell'ordine. Non lo so, io spero che il Parlamento... Lei non crede che i cittadini nordici siano più indisciplinati nel parcheggiare la macchina? Ma io penso che le seconde file, ahimè, uniscano il paese da Bolzano a Siracusa. È semplicemente la quantità di controlli che poi ti fa il numero di multe. Non penso che ci siano cittadini più o meno indisciplinati. Il mio dovere da ministro, perché per questo mi pagano gli stipendi, è ridurre gli incidenti e i morti, ma senza mettere nuove tasse occulte sui motociclisti, sugli automobilisti. E mi faccia dire, quei sindaci, spesso quasi tutti di sinistra, che chiudono interi pezzi di città, a Milano, a Roma, a Bologna, a Firenze, a chi non ha l'auto elettrica, fiammante, ultimo modello, o il furgone ultimo modello, danneggiano i lavoratori. Non si aiuta l'ambiente impedendo alla gente di andare a fare il suo lavoro. Stamattina eravamo a Milano, abbiamo beccato un cittadino che è uscito dalla metropolitana perché ha detto, da ieri non posso usare la mia auto Euro 4 diesel. Lei capisce che se uno non ha i soldi per comprarsi la Tesla nuova e ha l'Euro 4, non si tiene l'Euro 4 perché fa chic. Evidentemente perché non c'ha i 30 e i 40 mila euro per cambiare la macchina. E lasciarlo a piedi e impedirgli di lavorare non aiuta l'ambiente. Detto questo, lei ha accolto del segno perché quello su cui stiamo investendo come Ministero sono miliardi di euro in nuove metropolitane, da nord a sud, da Milano a Torino, a Messina, perché il progetto Ponte sullo Stretto prevede anche la metropolitana a Messina. Quindi io devo offrire un'alternativa a chi va a lavorare, ma non posso lasciarli a Milano o a Roma a piedi se non hanno i soldi per cambiare la macchina. Questo è ingiusto. Da zero a cento la probabilità che poi sto ponte si realizzi? Ma cento. Non dica cento perché poi dopo, guarda che questa clipper resta, poi dopo le cento. Un po', ma solo in Italia, mi permetta, si riesce a fare battaglia politica su un ponte, su un'autostrada, su una galleria, sulla TAV. Io sto lavorando al ponte di San Benedetto Po a Mantua, al ponte Manzoni a Lecco, al ponte Diana in Sardegna. Il ponte sullo Stretto serve a unire milioni di siciliani, serve a inquinare di meno, a viaggiare più in fretta. Mi hanno denunciato. Io ho visto che il PD ha fatto una denuncia alla Procura della Repubblica perché vogliamo fare il ponte. Il ponte è un diritto di milioni di italiani di viaggiare più velocemente, più sicuri e di inquinare di meno. Perché se invece di migliaia di traghetti che inquinano il mare, tu hai il treno che attraversa il ponte, cambi la vita e il ponte, secondo le stime della società, creerà, fra posti di lavoro diretti e indotti, cento, ventimila posti di lavoro in tutta Italia, dalla Lombardia alla Sicilia. Quindi mi domando perché uno debba dire no a un ponte, all'alta velocità, a una diga, a una ferrovia. Solo in Italia la sinistra riesce a dire di no alle opere pubbliche. Torno un attimo sul tema degli automobilisti perché una bella batosta in questi giorni è ancora il prezzo della benzina. Ieri alcuni giornali riportavano addirittura 2,5 euro in alcune pompe ovviamente. Il prezzo medio oggi è 1,85 e io invito gli automobilisti a chiedere qual è il prezzo medio che come governo abbiamo imposto perché se qualcuno fa il furbo che mette il prezzo alle stelle commette qualcosa di sbagliato. Ma quindi mi sta dicendo non è così alto? No, è sempre troppo alto, è sempre troppo alto per carità di Dio. Non è sopra i 2 euro come era prima e il governo si è impegnato che in caso di ulteriori aumenti per la guerra in Israele, per la guerra in Ucraina, per i pirati del Mar Rosso, perché la situazione del mondo ahimè è drammatica, ovviamente il governo interverrà. Oggi il prezzo medio poi cambia da regione a regione, intorno agli 1,83 e 1,84. se qualcuno si trova la benzina a 2,5 euro sappia che c'è qualcosa che non funziona. Quindi c'è un prezzo limite oltre al quale il governo ridurrebbe di nuovo quelle accise? Lei si ricorderà che parliamo in passato dei 2 euro perché l'anno scorso la benzina aveva ampiamente superato i 2 euro che era un livello drammatico, poi fortunatamente è scesa la benzina, l'elettricità, ne riparleremo come governo. Sicuramente per chi usa l'auto per lavoro, non per chi va a fare un weekend a Cortina o a Madonna di Campiglio, ma per chi usa l'auto per lavoro tutti i giorni, ed è la stragrande maggioranza degli italiani, ma penso anche ai camionisti, penso agli agricoltori, perché noi stiamo intervenendo a sostegno di camionisti e agricoltori, però se superasse una certa cifra dovremmo porci il problema di intervenire. E mi permetta di dire che le guerre non aiutano, io vedo che c'è ancora questa roba incredibile. Quindi però non sarebbe un intervento generale, sarebbe più mirato mi sembra, perché lei dice c'è un conto andare a lavorare, un conto andare a fare un weekend. Sì, diciamo che l'abbattimento per tutti, il nostro obiettivo è aiutare chi lavora. Se uno usa il Megasuv, e io non ho nessuna invidia e sono contento, e se uno ha la Ferrari e usa la Ferrari per girare l'Italia, per guardare le bellezze del nostro paese, magari la benzina a due euro se lo può pagare. Se uno ha il pandino o l'auto usata di dieci anni, ecco, quei due euro sicuramente incidono in maniera diversa. Oggi la questione all'interno della maggioranza si discute molto sul terzo mandato, che riguarda i governatori delle regioni, molte di quali sono uscenti, molte di quali sono della Lega, molte di quali sono, bisogna dirlo, magari apprezzati almeno nei sondaggi, e quindi la domanda è dovrebbero poter fare un terzo mandato oppure no. Ma guardi, è un dibattito molto politico e giornalistico. Io le dico, decida il Parlamento, cioè faccio il ministro dei trasporti, dei lavori pubblici, devo correre per fare ferrovie, strade, autostrade, nuove. Quindi sul terzo mandato è una questione di democrazia, mi metto nei panni di chi è a casa, se uno ha un buon sindaco, dopo sindaci disastrosi, o un buon governatore, e dopo due mandati non può più rivotarlo per legge, secondo me perde qualcosa. Per i ministri c'è un limite di mandati? No. Per i parlamentari italiani, per i parlamentari europei c'è un limite di mandati? No. Ecco, se uno si trova il sindaco bravo, il governatore bravo, per me sarebbe utile che potesse rivotarselo due, tre, quattro, cinque, diciotto volte. Ma perché secondo lei, diciamo, il grande partito, Fratelli d'Italia... Non lo so, ma sicuramente il centrodestra non si dividerà sul terzo mandato, su questioni politiche, siamo qua per cinque anni e dobbiamo lavorare per migliorare la sanità, abbassare le tasse e rendere il Paese più sicuro, per quello che mi riguarda sulle strade, sulle autostrade. Non è sicuramente il terzo mandato, deciderà liberamente il Parlamento. Andate piano, andate piano, perché questo poi è fondamentale, al di là di Fleximen o di altro. O degli autovelox o delle zone 30. Salvini, bocca al lupo, buona guarigione, l'area sicuramente di Cagliari le farà bene. Grazie per essere stato con noi. Vi aspetto intanto in Sardegna e grazie per lo spazio.